Ve la ricordate? Bu 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 mi piaci tu Io volevo dirti che te dico a te senza Ora o mai più 8 artisti in gara Saranno accompagnati da 8 coach e giudici Chi fermerà la musica Non era tanto precisa l'intonazione No, non essere così cattiva Perfetto Dove? Amadeus conduce Ora o mai più Sabato alle 21.25 Su Rai 1